Da 30 anni circa la comunità Sikh di Saboglia si ritrova nel suo Gurduvara, ossia nel luogo di culto, il luogo che è riferimento culturale e religioso per circa 30.000 persone, impiegate prevalentemente in agricoltura, sottoposte a condizioni di lavoro estreme, in alcuni casi di sfruttamento vero e proprio. È una comunità, quella Sikh pontina, estremamente laboriosa, che vive quotidianamente drammi continui di cui poco si ha consapevolezza e coscienza. Lavorano come braccianti agricoli nelle nostre campagne. Vengono raccolti la mattina da caporali o padroni che li portano nei campi a lavorare per raccogliere la frutta, la verdura pontina, che poi viene smistata in tutto il paese. È una comunità che cerca di inserirsi, di integrarsi, ma è ancora segregata soprattutto in luoghi periferici, come per esempio a Belafarni o a Fondi. Eppure è straordinariamente ben organizzata e impegnata in processi, in percorsi di emancipazione e di integrazione, che è necessario conoscere ed accompagnare se vogliamo considerarci e ritenerci delle persone civili. Siamo ormai anche giunti alle seconde generazioni, cioè a dire si sono formate le famiglie, sono state fatte arrivare le mogli e sono nati i bambini che frequentano le nostre scuole, che frequentano i luoghi tradizionalmente frequentati anche dagli italiani. Ora, nascondere questo fenomeno significa sostanzialmente nascondere una evoluzione importante della nostra società. Ci sono associazioni e cittadini che si impegnano accanto alla comunità SIC per dimostrare che l'inclusione e il dialogo sono fruttuosi e possono portare a risultati importanti. Lega Ambiente, per esempio, attraverso il Circolo Larus organizza iniziative di diverso livello e sollecita le amministrazioni ad interessarsi al problema. Il problema è quello occupazionale, lavorativo, ma anche sociale. Noi, per esempio, chiediamo con l'Associazione in Migrazione e con la stessa Lega Ambiente che le amministrazioni investano concretamente in progetti, in idee, in scuole di formazione per l'insegnamento della lingua italiana. Andare al Tempio SIC significa essere accolti, certamente rispettare le loro tradizioni, i loro usi e i loro costumi, ma essere abbracciati dalla comunità indipendentemente dal proprio credo religioso e dal proprio genere. È fondamentale come esperienza. Lega Ambiente, per esempio, attraverso l'Associazione in migrazione. «L'AILA, per esempio, in grado di servo, iso e il poteremmo che i loro spiriti, ma essere abbracciati dalla comunità indipendentemente dal proprio condizioni e delizzi. L'AILA, per esempio, attraverso 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 l'AILA, per esempio. Nella comunità Sikh tutti vengono accolti e fatti accomodare nell'hangar. Sostanzialmente la comunità si prende cura di te cucinandoti i loro cibi tradizionali ed è questo il sistema attraverso il quale loro hanno rotto il sistema di caste indiano, induista. Uomini e donne cucinano insieme ed insieme ti offrono il loro cibo. Buongiorno, sono Singh Hardip. Io sto qua in Italia cercando lavoro. Sono qua lavorando fiorista, dovevo una agenda di fiori. Questa è la nostra casa, dove stanno mangiando tutti. Vengono qua, non solo gli indiani, tutti quelli vengono qua e prima vanno dentro la casa, pregano, dopo entrano qua e mangiano. Mangiano e berano. Berano tè, qualcosa come succo di frutta, acqua, tutto quanto, senza soldi. Non è davvero gratuito, tutto gratuito. Tutto questo avviene ogni domenica ed ogni domenica si rinnova il patto tra centinaia e centinaia di sicche e la comunità. Un patto religioso ma anche un patto sociale fondamentale per la tenuta della comunità stessa. Ma ogni domenica è destinata ad essere superata, a terminare. E il lunedì successivo si torna alla vita di sempre, che è la vita dei braccianti persi nei campi della pianura pontina, dove si lavora per 12-13 ore al giorno, spesso per 2 o 3 euro l'ora in condizioni veramente disumane, spesso schiacciati da una volontà arrogante e prepotente di qualche padrone, che si arroga anche il diritto di considerarli schiavi. Ciao, Champo!